buongiorno io sono tarin oggi purtroppo non c'è molta luce qui è molto molto nuvoloso tarin fatti vedere come sei bella che splendore fatti vedere tarin sempre con quella faccina tarine vieni qua sembra che ho quella faccina vieni vieni qua vieni oggi è tutto nuvoloso se ci fosse un po di sole forse più tardi comunque io sono piccolina peso circa 8 kg e sarò una taglia piccola posso arrivare sui 10 kg di peso ecco qua o magari questo è il mio è il mio peso naturalmente poi sarò sterilizzata e quindi tenderò un poca di ingrazzare ci vuole l'alimentazione giusta fatto di crocchine giuste e tarin tarin è stupenda vieni tarin vieni 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 alzati alzati vieni qua tarin ma perché piangi carizze 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 no 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 no